I libri ora, l'ultimo di Giannettore Gassani, è un romanzo, l'ultimo abbraccio, si intitola, inventato in Ucraina, ma non quella attuale, quella del disastro di Chernobyl. È un romanzo che ci parla di una regione drammaticamente d'attualità in questi mesi, l'Ucraina, ma ce ne parla in un'altra epoca, quella a cavallo della tragedia, dell'incidente di Chernobyl. E ci parla degli orfani e dell'istituto delle adozioni internazionali che si sviluppò in quell'occasione, con cinque ragazzini protagonisti e un anziano che è un po' il loro riferimento. Nell'ultimo abbraccio il romanzo di Giannettore Gassani. È un romanzo che parla d'amore, parla dei rapporti profondi tra gli anziani e i bambini, i bambini abbandonati in un territorio dilaniato da Chernobyl, dalle radiazioni. È la fotografia fedele di tutto ciò che è accaduto nell'internat, negli internati orfanatrofi, nella miseria, nell'abbandono. Come avvocato, Gassani si è occupato anche di adozioni internazionali e da lì trae l'esperienza per raccontare i fatti del romanzo, che è anche una storia di solidarietà. La solidarietà è il filo conduttore di tutto il romanzo. Spesso e volentieri gli anziani, per dare un senso alla propria esistenza, si dedicano ai minori. È la prova che la genetica non ti fa genitore, che i figli sono di chi li cresce. Ed è soprattutto la sottolineatura di una solidarietà che anche l'Italia ha avuto a confronto del popolo ucraino. Sono due popoli fratelli. Da tanti anni Italia e Ucraina sono due vasi comunicanti in tema di solidarietà. Questa edizione del